Salve, sono Maria Antonietta Barone, Program Manager del Master in Insurance and Risk Management Program di Mib3S School of Management. Il mio ruolo è quello di responsabile dell'organizzazione del Master. Inoltre fungo da tradunione tra il corpo docente e gli studenti. Offro la mia più che decennale esperienza in questo ruolo e offro su base giornaliera, perché incontro ogni giorno gli studenti, supporto e assistenza a tutte le loro esigenze. Faccio anche parte del team di selezione e ammissione del Master e quindi incontro molto spesso candidati che mi fanno questa domanda. Perché dovremmo scegliere proprio questo Master? La prima risposta è che il Master in Insurance and Risk Management è un'esperienza formativa unica tra i Master italiani accreditati. Inoltre a livello internazionale è accreditato da IFMD IPAS e attualmente si trova il quinto posto nel mondo tra i Master assicurativi secondo la classifica stilata ogni anno da Ed Universal Best Master's Ranking. L'esperienza del Master è anche non soltanto un'esperienza di tipo formativo, ma è un'esperienza umano di alto spessore perché offre la possibilità di creare e di mantenere nel tempo rapporti interpersonali molto importanti che durano tutta la vita in un ambiente multiculturale. Un altro elemento molto rilevante del nostro Master è che è finanziato dai principali gruppi assicurativi mondiali, innanzitutto Allianz, Assicurazioni Generali e inoltre dalle principali compagnie di consulenza, le cosiddette Big Four che sono Deloitte, Price, EY e KPMG. Sono proprio queste le aziende che sostengono i nostri studenti, offrendo borse di studio a copertura totale in alcuni casi e o parziale per la partecipazione al Master. Io rimango a vostra disposizione per fornire qualsiasi ulteriore dettaglio e vi aspetto a Trieste.